Amici di Rassegna Metropolitana, siamo qui in compagnia di Giuseppe Marano, un rappresentante della provincia di Messina dei Verdi. Giuseppe, ciao, il tuo rapporto, so che sei coinvolto in un'azione legale con le industrie di Milazzo, qual è la tua storia? Allora a me la raffineria di Milazzo e Leni mi citano per 400 mila euro e per allarme sociale, sicuramente loro non mi citano perché io li abbia offese su Facebook o altro, ma sono convinto che siccome è partita da Milazzo un'azione molto forte, dirompente da parte dei cittadini, molti cittadini si sono rivolti al tribunale attraverso il nostro legale, l'avvocato Antonio Giardina, dove chiedono i danni sotto per quanto riguarda la paura di ammalarsi, il danno morale, il danno esistenziale, il non poter aprire le finestre di casa, quella classica puzza di gas, di idrocarburi che emanano le raffinerie. Noi diciamo basta a queste puzze, basta a questi odori sgradevoli che poi, badate bene, non sono delle semplici puzze, queste puzze di gas, ma sono delle sostanze altamente chimiche, velenose e cancerogene che fanno venire il tumore. Quindi noi agiamo per la paura di ammalarsi, abbiamo chiesto i danni alla raffineria di Milazzo e questo metodo applicativo contro la raffineria di Milazzo è stato anche adottato contro l'Eni e contro la raffineria Gera ed oggi siamo qui con i nostri legali, grazie ad Arturo Andolina e a Mara Nicotra, a far sì che il popolo inquinato della provincia di Siracusa possa chiedere i danni ai petrolchimici siracusani. Bene, vi aspettavate questa risposta dal popolo di Augusta o vi aspettavate qualcosa di diverso? Allora, noi intanto ci aspettavamo che non ci sia da parte della politica, ecco, ha svenduto la salute dei cittadini, la salute dei siciliani. Quindi oggi ci dobbiamo ritrovare tutti insieme senza pensare alle bandiere, ai colori politici, ma soltanto come persone di buon senso, di buona volontà, chi è giallo, chi è verde, chi è 5 stelle. L'importante è che tutti insieme tuteliamo la salute dei nostri figli, la salute dei siciliani, la salute di questo popolo che noi definiamo il popolo inquinato e quindi vogliamo agire soprattutto per un principio sacrosanto dettato dall'Europa che è il principio che chi inquina deve pagare, civilmente e penalmente. Ecco perché noi ci rivolgiamo, il popolo si rivolge, alle procure e ai tribunali. Quindi la richiesta principale è quella di un risarcimento per una serie di danni che possono essere a 360 gradi, non solo fisici ma anche morali, oltre che l'impatto ambientale. Certo, noi non dobbiamo dimostrare la patologia dall'inquinamento, ma i profili di danno sono il danno morale, il danno esistenziale, la paura di non poter aprire le finestre, soprattutto io penso agli immobili, quanto valgono gli immobili vicino alle industrie? Non valgono più nulla, la gente può chiedere i danni, deve essere risarcita e il principio che inquina paga è un principio fondamentale non soltanto per la popolazione, ma per far sì che queste raffinerie, questi petrolchimici pagano i danni alle popolazioni e poi paghino anche le bonifiche, che non vadano via senza pagare le bonifiche, sono loro i responsabili, sono loro che devono pagare. Diciamo che la vostra è un'azione sicuramente che andrà avanti a lungo termine, ben oltre la risoluzione di queste azioni legali. Certo, le nostre azioni e le azioni sono delle azioni civili, ma sono anche delle azioni penali, la gente ora comincia a presentare le denunzie querele, comincia a presentare denunzie per ente in procura, a Milazzo per esempio è esploso un serbatoio della rafferia di Milazzo, molta gente si è fatta refertare, molta gente si è affidata ai nostri legali, adesso entreranno nel processo penale contro la raffineria che chiederanno i danni e si costituiranno parte civile, quindi denunzie penali, azioni civili di risarcimento del danno, tutto questo per il principio che chi inquina deve pagare. Benissimo, grazie Giuseppe, qui è tutto da Rassegna Metropolitana, Jessica Bellisti.